no noi siamo dai de gas e quindi dai e pure de gas vai vai e così che si fanno le rio vai cazzo c'è il piedino pesante eh vitico vitico monia dai de gas gli do gli do anzi lui gli da dai de gas e vai via la quercia di traverso mamma mia di più di più bello e adesso il pezzo forno è il colore il colore cos'è questa quattro ruote motrici? no l'interiore davanti tutto questo il colore 180 pesante 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 quanti giri qua visano? sai noi non facciamo il cronometraggio non lo prendiamo perché non è che noi facciamo le gare quindi abbiamo il trasponder perché così direzione gara sa dove siamo in tutti i momenti in pista vabbè avrei un'idea no? con le moto 2.0 qualcosa mitico wow tostissimo grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te